Buon pomeriggio ragazzi, undicesima puntata della serie Giovani Bianconeri, piccola premessa prima però. Questo video non era in programma perché volevo parlare di Elia Petrelli però, essendo stato ceduto al Genoa nell'affare Rovella insieme a Portanova, ora in prestito alla Regina, ho dovuto cambiare programmazione. Andremo a parlare come anche in un altro paio d'occasioni più avanti. Andremo a parlare oggi di un attaccante comprato dalla Juventus nella scorsa finestra di mercato e che ha già anche segnato il suo primo gol con la maglia dei Giovani Bianconeri. Sto parlando dell'italiano Emanuele Pecorino. Nasce proprio a Catania, il club da dove è stato acquistato, il 5 luglio del 2001. Il suo nome ha iniziato ad assumere rilevanza sul piano nazionale da quando la Juventus ha bussato proprio alla porta dei siciliani per chiedere informazioni su di lui e ha concluso il suo acquisto inizialmente per la selezione dell'Under 23. La carriera di Pecorino però non è certo decollata all'improvviso, anzi dopo l'intera trafila nel settore giovanile del Catania è Walter Alfredo Novellino a regalargli la prima convocazione con la maglia della prima squadra. Novellino, che in quel Catania sarà quasi di passaggio, lo porta in panchina per la sfida in programma allo stadio Massimino contro il Bisceglie il 7 aprile di due anni fa. Le cose si mettono male in quella partita. Il Catania è in svantaggio e al minuto numero 55 l'allenatore lo inserisce nella mischia con la maglia numero 31. Il Catania trova il pari al minuto 82 con il gol di un suo compagno di squadra di piazza ma lui si fa notare al minuto numero 91 il suo colpo di testa viene salvato sulla linea, viene salvato in extremis ma è il suo compagno di squadra esposito a trovare la zampata vincente e i rossazzurri vincono la partita per due reti a uno. Dopo quel debutto Novellino lo convoca fino al termine della stagione senza però mai più farlo entrare in campo. Anche ai playoff contro il Trapani e Consottil come nuovo allenatore siede solo in panchina senza mai vedere il rettangolo verde. L'estate successiva, quella del 2019, il Catania rivoluzione all'organico, in panchina arriva Andrea Camplone e Emanuele Pecorino dopo essere andato in panchina nel match d'esordio cambia aria. A chiamarlo è il Milan che militante in Primavera 2 vuole rafforzare la sua squadra giovanile per ritornare alla massima serie del campionato Primavera puntando su di lui. Pecorino peraltro si era già unito al Milan nel febbraio dell'anno prima del 2018 prendendo parte al torneo di Viareggio e dopo aver vissuto da spettatore le tre gare del girone vinte dai rossoneri viene rilanciato come titolare da Federico Giunti per il match contro il Bruges valido per gli ottavi di finale della Yacht League. Pecorino porta in vantaggio il Milan al minuto 61, Haidara raddoppia ma poi i rossoneri si fanno ingenuamente raggiungere sul 2-2 e vengono eliminati ai tiri di rigore. Tanto basta però per lasciare un buon ricordo ai rossoneri che come detto puntano nuovamente su di lui. Il tecnico Giunti gli dà fiducia e lo lancia come un numero 9 fisso, titolare, spesso in tandem con Daniel Maldini. Pecorino segna il suo esordio contro lo Spezia e non si ferma più, 7 gol in ben 14 gare disputate, più altri 2 in Coppa Italia primavera. Quindi vuol dire che era un gol ogni due partite, prima dello stop ai campionale Giovalini imposto dall'emergenza Covid-19. Fa in tempo però alle gare con Gabbia Maldini e altri elementi della squadra rossonera e a conoscere Zlatan Ibraimovic. Lascia però il Milan che conquisterà in ogni caso la promozione in primavera 1, in quanto primo in classifica al momento dell'interruzione del campionato e fa ritorno nella sua Catania, dove però non viene tenuto in considerazione per i due match dei play-off disputati dalla squadra ora allenata da Cristiano Lucarelli. L'estate seguente, quella del 2020, il Catania è in crisi e rischia di fallire. La Sigi, cordata composta da imprenditori locali, salva il club e la sua storia, ma la situazione debitoria è tale da non poter certo permettersi di non dare fiducia a un giovane così promettente. E così Pecorino, di nuovo col suo numero 31 sulle spalle, resta in Sicilia. Nei disegni del nuovo allenatore Giuseppe Raffaele, la coppia titolare è composta da Reginaldo e Sarao, ma lui sin dalle prime giornate riesce a ritagliarsi un po' di spazio. Il debutto da titolare arriva però soltanto a novembre dello stesso anno e non in una gara qualsiasi, bensì con il match dei rivali di sempre del Palermo, disputato a Lenzo Barbera. Il Catania gioca a una gara pessima, il Palermo passa in vantaggio e legittima il risultato fin quando, in mischia, Emanuele Pecorino trova con caparbietà il gol del pari. Da quel momento diventa inamovibile nello scarchiere di Raffaele, riesce a realizzare altre quattro reti. È alto un metro e 92 e Pecorino fa della forza fisica una delle sue armi migliori, ma ha anche un ottimo mancino e una buona protezione del pallone, che lo rendono in grado di tenere sotto pressione le retroguardie avversarie. Nel frattempo, gol dopo gol, rete dopo rete, su di lui si sono accesi i riflettori di un club molto importante, la Juventus, e i bianconeri, attenti al connubio tra prima squadra e Under-23, iniziata soprattutto in questa stagione con il nuovo allenatore Andrea Pirlo, avevano individuato in lui un rinforzo per la compagine giovanile e non solo, bussando alle porte del Catania, proprio quando la proprietà sta per passare a Giù Tacopina. La dirigenza non ha chiuso la porta alla Juve e ha dato l'ok al giocatore per il trasferimento. Lo stesso Tacopina, una volta firmato il contratto preliminare per l'acquisto del club, aveva provato a fermare l'operazione e a blindare il ragazzo, è diventato però un volto nuovo, ormai dei bianconeri. Pecorino, all'età di 19 anni, può così vantarsi di aver già indossato sia la maglia del Milan, sia quella dei bianconeri della Juventus. Proprio domenica scorsa, quindi parliamo di domenica... ... ... ...